Natale! Benvenuto! Vecchi e nuovi parenti! Che sei tu, fratello? Ma con le sepio si capisce meglio! Un brindisi! Ma allora sei scemo! E via con i festeggiamenti! E' colpa mia, ce la costerrà! La ricetta per un'ottima festa? De cotto, de crudo, de bollao! Gioia! Lei che problemi ha? Amore! A parte quelli estetici! Regali! Indovina chi viene a Natale! No! Ma mamma scherza! Venerdì alle 21.10 su Canale 5 Ma scusi, ma lei chi è?